Dottoressa Arbace buongiorno, siamo qui tra le opere d'arte, opere bellissime all'interno del polo museale d'Abruzzo per un saluto con un po' di malinconia ma anche può essere un momento per fare un bilancio, lei è stata qui 11 anni, ci ha traghettato nel momento più difficile quello del post-sisma e adesso se ne va Beh sì, sono stati 11 anni quasi, molto intensi, molto impegnativi ma devo dire la verità, superate le difficoltà anche con l'aiuto di tanti collaboratori, amici rapporti positivi con le istituzioni che mi hanno molto sostenuto, sono riuscita comunque a produrre dei risultati di cui sono molto orgogliosa soprattutto per essere riuscita nel 2015 a riaprire questo gioiello, il Monda, poter esporre qui la gran parte delle opere d'arte che avevo fatto restaurare e qui nel Monda ci sono anche esposti dei dipinti o delle sculture come ad esempio il Sant'Antonio Abate di Saturnino Gatti che era stato giudicato irrecuperabile ci sono stati dei restauri che sono proprio ai limiti delle possibilità e poi anche poter aver avuto l'occasione di coniugare non solo l'alto livello del restauro e la ricerca scientifica per quanto riguarda lo studio dei materiali per valorizzare il più possibile il patrimonio dell'Abruzzo ma anche poi aver dato un occhio importante alle tecnologie perché qui nel Monda abbiamo comunque dei presidi antisismici ma come polo museale abbiamo realizzato anche visita virtuale del Monda, scansioni 3D di molte opere, il plastico della città abbiamo quindi dato anche delle informazioni che sono state molto utili anche durante il periodo della chiusura concisa col coronavirus e adesso che abbiamo riaperto abbiamo garantito presidi di sicurezza per i nostri visitatori e abbiamo quindi, diamo un'offerta culturale alta ma sicuramente tranquillizzante Cosa vuole consigliare a chi verrà dopo di lei? Beh guardi ci sono ancora tante opere nei depositi però io più che le opere che sono state depositate in questi anni presso altri musei che afferiscono all'ex polo museale ora rinominata direzione regionale musei consiglierei di partire da quelle opere che sono ancora nei veri depositi cioè che non sono state ancora oggetto di restauro, di ricerche o di studio e che hanno bisogno di cure in previsione poi speriamo della riapertura del museo nel Castello dell'Aquila Un'ultima domanda un po' allegra, un po' frivola tra tante opere d'arte probabilmente c'è qualcuna alla quale è più affezionato come fa una mamma con i suoi bambini? Beh guardi le madonne che ci sono in questo museo sono tutte per me molto molto care una in particolare la Madonna di Santa Margherita che ho attribuito a Paolo Aquilano poi c'è la Madonna di Collemaggio, ci sono le terracotte, il presepe di Tione le sculture medievali, diciamo che tutto quello che è riferibile al contesto mariano per me è particolarmente caro anche perché la figura femminile e lo abbiamo dimostrato anche in occasione della mostra dedicata alla Madonna Lactanz alla Madre Generosa lo scorso anno è qualcosa di veramente da approfondire perché la cultura dell'Abruzzo ha avuto un grande legame proprio con quelle che erano attività che erano delegate alle donne Allora noi la salutiamo augurandole ogni bene, in bocca al lupo per tutto e soprattutto speriamo che lei porti questa cultura dell'Abruzzo e la faccia conoscere a chi all'Aquila non è venuto e che magari ha intenzione e voglia di venire Sì ma il mio non è un addio ma un arrivederci perché abbiamo realizzato come ultima mostra un'ultima iniziativa all'inizio di quest'anno la mostra dedicata alle mura urbiche le mura dell'Aquila, un abbraccio lungo 6 km e adesso stiamo preparando una pubblicazione e io tornerò per la presentazione di questa pubblicazione Allora ci vediamo presto Grazie, sì, ciao